Siamo dentro il treno, mi sentite, c'è molto rumore, però è anche molto bello vederlo da qua, per chi non soffre da questo movimento, qui si vede tutto, anche la valle, prima c'erano capri, c'erano... uh, la galleria, uh, che bella galleria, speriamo che finisca presto. Ci sono due diventi, ma mia che impressione, mi spanto ancora a sta roba, non si vede niente, questo ciò qua. E siamo già verso il mare, verso l'altra parte, qua sta andando pienissimo, ci sono dei pratti in cui sta tantissimo tempo in galleria. Adesso vediamo cosa si vede dall'altra parte. Ciao ciao!